E sono un bravo, vado al contrario, sto bene fuori, senza padroni, io sono bravo Ok ragazzacci, ecco qui il vostro Diablotex che arriva con la prima partita classificata nell'interno del MyClub Insomma, eccoci qui pronti, pronto Allora come vedete ho lì, ho 250 monete che sono sempre quelle che mi regalano Konami Perché giustamente ragazzi io le monete non le acquisto, non le acquisto, ok Adesso faremo la prima partita classificata perché oggi hanno messo questo nuovo agente E voglio tentare la fortuna perché facendo una partita classificata mi danno altre 50 monete E noi andremo a tirare, andremo a tirare, no, non qui, scusate ho sbagliato, ecco qui Quindi andremo a tirare questo agente qui Che si può tirare solo con le monete per tentare di prendere Tre giocatori di questo calibro insomma, ok? Però prima disputiamo la partita classificata perché mi mancano 50 monete ragazzi, ecco Allora, detto questo, cerchiamo l'avversario Cerchiamo, ecco, partita classificata è questa perché poi qui è la partita classificata sim Che ne ho fatte alcune però Qui gioca Brado insomma Iniziamo con la prima partita classificata ragazzi Allora, vediamo un po' Mettiamo divario leggero Perfetto Ok Vai Vediamo un po' ragazzi Credo che mi dovrebbe dar qui La mia prima partita classificata che faccio ragazzi Veramente la prima partita Quindi connessione con il tuo avversario non riuscita Come prima partita partiamo bene Veramente partiamo bene ragazzi Partiamo benissimo Ed è la prima partita Lì risulta 4,78 ragazzi perché ho fatto delle partite Come si dice Non classificate Cioè classificate ma con le squadre reali fuori dal my club E ho fatto quelle contro sim Insomma, ecco Allora Vediamo un po' La mia prima partita classificata Cosa va a capitare? Una partita speciale Vabbè Ah, Mbappè anche lui Azzard Eh, vabbè Nedved Uh, si inizia bene come prima partita Vabbè, lasciamo stare Lasciamo stare Ah, ho visto bene Anche Sergio Ramos Ok Parliamone Giochiamo a San Siro, va Notte, estate, sereno Ok Vediamo un po' Fortunatamente non ha Mbappè quello speciale come ce l'ho io Fortun- Nooo La prima partita di Koulibaly Nooo, la prima partita di Koulibaly Nooo, vabbè Lascio questi due difensori Perché Perché si Eh, vabbè E vabbè Giocheremo con la difesa in questo modo Che devo fare? Eh, posso farci nulla E giocheremo con la difesa così Giocheremo con la difesa in questo modo Eh, che devo fare ragazzi Non ci voleva la difesa in questo modo tutta giù, eh Non ci voleva affatto, vabbè Ok Vabbè Nedved Questo qui, eh Vabbè Nazard, eh Eh, ragazzi, vabbè Iniziamo Iniziamo Tanto l'ho fatto questo Questa partita per le 50 monete L'ho fatta Se non neanche la giocavo oggi La partita classificata, eh Non avrei neanche giocata La partita classificata oggi Però, vabbè Avete visto che purtroppo La mia difesa è Non è messa bene Non è messa bene Maremma Koulibaly Rosso Alla prima partita Koulibaly Già stecca Vabbè Vediamo, vediamo È anche una partita speciale Poi, speriamo che vada tutto bene Vabbè, vediamo, vai Primo calcio di inizio Partita classificata E beh Come si può ben vedere Avete visto lì La prima volta che gioco La partita classificata È calcio di inizio Partita classificata Ho preso anche i GP Quindi lo posso dimostrare Lo posso dimostrare Ecco Se no poi magari qualcuno Può insinuare Che non era la mia prima partita Classificata Invece lo è Che tensione Con la difesa così, eh Che tensione Con la difesa in questo modo Vabbè Quindi poi ragazzi Alla fine di questo Di questa partita Faremo anche i giri Della gente Con le monetine Quindi guardate il gameplay Fino in fondo Perché E girerò la gente A fine partita Vai Lì per Manè No Non arriva la palla Per Manè Vabbè Il passaggio era fatto Anche male Diciamo la verità Che il passaggio Era fatto male Vai Manè Maren Cosa si mangia Manenji Cosa ti sei mangiato Ma cosa si è inventato Bradone qui Ma cosa ha inventato Super Bradone Vabbè Cosa aveva inventato Bradone Va bene Dai Eh Manè ragazzi Se parte parte Non vuole sapere nulla Manè Mbappé Lasciateli stare Se partono Sono cazzi Io ve lo dico Ok Io ho sbagliato Ho sbagliato E non poco E non poco Meno male Che Curibaly Gioca bene Anche in queste condizioni Per adesso Vabbè Non so se avete visto L'accelerazione Di Mbappé Ragazzi Non so se No vabbè È illegale È illegale Mbappé È illegale Ragazzi È illegale Vabbè Gol di Mbappé E vabbè L'ho livellato Già fino al livello 47 Non è che È uno scherzo Insomma Mbappé speciale Al livello 47 Inizia ad essere Un problemino Maremma 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 Dalla Neymar Bravo Mbappé Maremma Maremma Vediamo Un po' Non è fallo lì Vabbè Io l'ho visto volare Per terra Però Va bene Insomma Va bene così L'ho visto volare giù Ma va bene così Uh per Mappé Mappé Come va ragazzi Vabbè E lo devo livellare ancora Altri 20 livelli Deve salire Mbappé Non so se mi spiego Chiudiamolo Chiudiamolo Maremma Ottimo così Ragazzi Per adesso Stiamo giocando Ragazzi Si sta giocando bene Per adesso Nonostante I problemi Difensivi Perché La difesa Purtroppo Non è in grande forma Però vabbè No ho sbagliato Lì potevo tirare Con Mbappé Vabbè Credevo che mi avevano fermato Vabbè dai Fermate Nedved Fermate Nedved No Maremma Ho sbagliato io Qui ho sbagliato Eh ho sbagliato io lì Ho sbagliato io ragazzi Ho sbagliato io Ho sbagliato io Ah se la tira già Vabbè Ho fatto un errore io Vabbè Un errore difensivo Vabbè La partita non è finita Comunque Ho fatto un errore Difensivo E un errore in attacco Prima che Avrei potuto tirare Con Mbappé Non l'ho fatto Vabbè Lasciamo stare Tanto È la mia prima partita Classificata ragazzi Ci può stare Non è che Vai Mané Vai Mané Devi correre Devi correre Manengi E andiamo Così ti voglio Così ti voglio Mané Così ti voglio Così ti voglio Mané E verrai livellato Anche tu Perché te lo meriti Te lo meriti Diamo palla per Mané Perché sta dando problemi All'avversario Mané ragazzi Dà problemini Dà un po' di problemini All'avversario Lo vede un po' in difficoltà L'avversario Quando prende palla Mané Cioè non so se avete visto Non so se avete visto Ottimo così Ottimo Mi sono spaventato Lì Devo dire la verità Mi sono spaventato Devo dire la verità Mi sono spaventato Ragazzi Però È andata bene Quindi A me preoccupa Le condizioni Della mia difesa Ragazzi È quello che mi preoccupa Non è l'attacco Vai Bappenji Ok ok Va bene così ragazzi Va bene così Stiamo giocando Abbastanza bene Stiamo giocando Abbastanza bene Dai Wow Ok Ok un primo tempo Decente Devo dire un primo tempo decente Io andrei subito con il secondo tempo Perché possiamo iniziare il secondo tempo Tranquillamente così E poi vediamo un po' il da farsi Vai E' la difesa E' la difesa a me che preoccupa Ragazzi Perché non sono in condizioni I miei giocatori E' quello che mi preoccupa E' solo quello che mi preoccupa Perché l'attacco comunque sta in super forma Vai Vabbè E sto giocando ancora con un allenatore Che sinceramente Non è Vabbè Comunque va bene così Dai va bene così Va benissimo così Dai su ragazzi Coprite Dovete coprire Comunque ragazzi Culliballino Nonostante è fuori forma Qualcosina sta facendo E non è che Ecco qui Ecco qui Ecco qui Ecco qui Vabbè Sapevo io Vabbè Stiamo giocando comunque bene Ragazzi Stiamo giocando Comunque bene Questo è l'importante E questo è l'importante Maremma Come arrivano Come gli avvoltoi Arrivano come gli avvoltoi Ragazzi Ottimo così È ottimo Insomma Maremma Stavo per fare la stronzata Del secolo Perché la stavo Per fare Ragazzi E si Vai Neymar Vai Maremma Maremma Neymar Non sei riuscito Nell'impresa Ma vabbè Non si può far tutto bene Non si può far tutto bene Vabbè Chiamiamo un po' la sostituzione Qui vediamo un po' se C'è qualche cambio da fare Anche se non può Vabbè Gli ha fatto un liscio Ragazzi Ha fatto un liscio Il mio difensore Di quelli Mostruosi Grande Coulibaly Che è fuori forma Comunque Ha fatto Un ottimo recupero E bisogna applaudirlo Bisogna applaudirlo Doppio Ok Va bene così ragazzi Va bene così Allora Vediamo un po' Ma non possiamo Continuare a giocare Così Così abbiamo iniziato Così si finisce Vai Non ho capito La giocata Dell'avversario Ma comunque Va bene così Non l'ho capita Ma va bene così Cosa ho fatto Un fallo Questo Dai Non è un fallo Questo Su Non esageriamo Non è un fallo Sapevo che la dava Allì Lo sapevo io Non è che non lo sapevo Lo sapevo sì È fallo Sumbapè ragazzi Lì è fallo Attenzione Perché lì è fallo Non è che Insomma È la fallo E basta lì Vai Ma Nenji Nessuno che va sulla palla Nessuno che va sulla palla È incredibile È incredibile ragazzi Veramente È incredibile Ha dell'incredibile Quello che ho visto Ha veramente Dell'incredibile No Cosa si mangia Manè Cosa si mangia Manè Ragazzi Dai Cosa ti mangi Manè Ti ho dato una palla d'oro Ti ho dato Vabbè Un infortunio Qualcosa in campo Non ho ben capito Vabbè Non riguarda la mia squadra Quindi Me ne fotte E una sega Insomma Ecco Ve lo dico Bello chiaro No Aspettate Ok Va bene così Vai Va bene così Va benissimo Così Va benissimo Così Mi sono mangiato quel gol Con Manelli Vabbè Grande Coulibaly Grande Coulibaly Coulibaly sarà sempre presente Nella mia rosa Sempre titolare Ragazzi Ve lo dico Anche Se pescherò altri difensori Coulibaly sarà sempre lì presente Ve lo dico No No Vabbè ragazzi Dai Se pareggiamo la partita Accontentiamoci del pareggio Anche se mi son mangiato Quel gol E lì Ma vabbè Sono dettagli Sono dettagli Che mi son mangiato il gol Sono piccoli dettagli E si Sono solo piccoli dettagli E Vabbè Un pareggio Ragazzi Va bene così Dai Un pareggio 2 a 2 L'importante Che non ho perso Però dai Ho dato una buona dimostrazione Che ci sono Sul PES 2019 Ho dato una dimostrazione Che comunque ci sono E un pareggio Va più che bene Dai Rimpiango Di non aver fatto quel gol Manrem Manè Vabbè Allora Allora Vai Si sale Ok 3400 30 GP Ok Un allenatore speciale Ah Per l'esperienza lì Ma mi darà Quelle 50 monete Che mancano Me le daranno Eccoli qui ragazzi Forse addirittura 100 E vai Andiamo Vedete A me le monete Vanno in regalo Non è che le ho acquistate Ecco Allora ragazzi Adesso Andremo A spacchettare La gente Che vi dicevo prima Quindi Chi è rimasto Vedrà Allora Gli obiettivi I giocatori Che si possono Prendere Sono questi Ve li faccio Rivedere Ok Possiamo iniziare A tirare Qui ragazzi Vai Allora Aspettate un attimo Paga con monete MyClub Allora ragazzi Vediamo un po' Il primo giro Dove ci porta Dove ci porta Il primo giro Ragazzi Ci porta In Francia Ci porta In Francia Ed è una palla Nera Ed è una palla nera Attenzione Una palla nera E ci fa comodo Vai E' una palla nera Però Va bene Va bene così Ragazzi Vai E' sempre Un giocatore Importante Che arriva Nella mia rosa Ok Andiamo subito Con il secondo giro Vediamo un po' Come vorrei andare In Spagna E voi sapete Perché E voi sapete Perché vorrei andare In Spagna Io Andiamo in Spagna Ragazzi Andiamo in Spagna Messi 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 E lui Maremma Maremma Messenger E lui E lui Ragazzi E lui Messi Carta speciale Si Con le monete Regalate da Konami Quasi quasi Se lo meriterebbe Che faccio Una ricarica Per le monete Anche se sono contrario Perché mi sta pagando bene Ragazzi Se lo meriterebbe Con questi agenti Mi sta pagando bene Neymar Mbappé Messi Tutti speciali Vai Dammi un'altra palla nera Così facciamo 3 su 3 palle nere Vai ciccio Vai Si ritorna in Francia 3 palle nere Ragazzi Vai E andiamo E andiamo E andiamo Perfetto ragazzi Perfetto Perfetto Cioè ragazzi 3 palle nere Compreso Messi Ma vai Ma vieni E andiamo Bradone Vai Ora si inizia a fare Sul serio Grazie Konami Di questi regali Che mi fai Vi ringrazio Allora ragazzi Anche se la partita L'ho pareggiata Però Ah Vediamo un attimo Che qui c'è ancora qualcosa Da ritirare Vedete Come ritiro i premi Ok ragazzi Allora Il tutto è fatto Il tutto è fatto Va bene così Va benissimo così Ragazzi E possiamo Tranquillamente Chiudere qui Il gameplay Spero che la prima partita Vi sia piaciuta Un saluto a tutti Al vostro Diarvotex Appuntamento Con i prossimi gameplay Ciao Rag and roll Rag and roll Rag and roll Rag and roll